Gentile colleghe e colleghi, ben trovati. Questo video ha lo scopo di illustrarvi le modifiche che sono state apportate al regolamento del buono pasto, anche in relazione alle nuove tipologie di orario che sono state ammesse a disposizione del personale, oltre ai precedenti profili orari preesistenti e sempre in vigore, e che hanno un diverso peso sulla maturazione del buono pasto. In generale il principio è che il buono pasto può essere erogato solo nel caso di inquadramenti con profilo orario superiore alle 6 ore e in tale giornate solo a condizione che il personale abbia un tempo effettivamente lavorato di almeno 6 ore al netto della pausa pranzo minima di 10 minuti che vi ricordo può essere effettuata nella fascia oraria dalle ore 12 alle ore 15. Ma per meglio comprendere la portata delle modifiche a regolamento buono pasto, abbiamo elaborato questa tabella che sintetizza per ogni tipologia oraria il massimale dei buoni pasto erogabili e le condizioni per la concessione dei medesimi. Come vedete, oltre ai vecchi profili orari, sono evidenziate in giallo due nuove tipologie di orario. La prima è rivolta al personale che svolge attività lavorativa su 5 giorni a settimana. e prevede un'articolazione della presenza su 3 giorni a settimana per una durata di 6 ore e 20 e per le restanti due giornate un rientro pomeridiano per una complessiva durata della giornata lavorativa richiesta di 8 ore e 30. Questo nuovo profilo orario consentirà al dipendente la maturazione di ticket pasto in tutte le giornate di servizio, sempre ovviamente che siano rispettate le condizioni di cui vi dicevo poc'anzi. Come vedete invece il profilo tradizionale che prevede un'articolazione oraria di 3 giorni per 6 ore giornaliere e 2 giorni di rientro pomeridiano per un complessivo orario giornaliero di 9 ore è modificato nel senso che proprio per la regola che dicevo poc'anzi che vincola la maturazione del buono pasto ai soli profili orari superiori alle 6 ore sarà possibile la concessione di buone pasto solo nelle due giornate di rientro. È pur vero che in entrambe le tipologie orarie il massimale di ticket pasto è comunque il medesimo pari a 88 ticket quindi diverso è solo il periodo temporale necessario per il raggiungimento del massimale perché naturalmente con la tipologia oraria che consente una modalità più frequente di maturazione del buono pasto i ticket pasto saranno esauriti in tempi più rapidi. La seconda tipologia di orario che è stata introdotta da regolamento riguarda invece il personale con svolgimento dell'attività lavorativa su 6 giorni a settimana e prevede una presenza in servizio per 3 giorni di 6 ore e 20 e le restanti 3 giornate con orario giornaliero richiesto di 5 ore e 40. In questo profilo orario è quindi possibile la maturazione del ticket pasto fino ad un massimo di 3 giornate alla settimana mentre come potete vedere nella tabella per lo stesso principio per cui è necessario ai fini della maturazione del buono essere inquadrati con profilo orario superiore alle 6 ore non può essere riconosciuto alcun buono per chi ha un profilo orario con 6 ore su 6 giorni. Per il personale che svolge l'attività lavorativa in regime di part time l'erogabilità del buono pasto è condizionata allo svolgimento di almeno una giornata lavorativa a settimana con profilo orario superiore a 6 ore giornaliere. Quindi come vediamo nella tabella per questo tipo di profilo orario sono previsti 40 ticket che naturalmente possono essere maturati solo nel caso in cui il personale abbia in tale giornate svolto un orario effettivo di servizio di 6 ore al netto della pausa. Il massimale anno sale a 88 buoni pasto qualora invece l'articolazione del part time prevede la presenza in servizio di almeno due giornate a settimana con un profilo orario di almeno 8 ore e 30. Naturalmente se nel corso dell'anno per esigenze personali conciliabili ovviamente con le esigenze di servizio della struttura sia necessario passare da una tipologia oraria ad un'altra l'aspettanza annua dei buoni pasto sarà riproporzionata in base ai mesi effettivamente svolti in ciascun profilo orario. Con questo ho concluso spero di esservi stata di supporto nella miglior comprensione del regolamento su buoni pasto. Questa tabella che abbiamo visto insieme nel video naturalmente è a disposizione nella pagina web riportata nel sottotitolo e per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento sull'argomento siamo a disposizione. Grazie a tutti!